Bentornati su MyFootballJersey. Continuiamo a vedere le anticipazioni per Euro 2024. Questa è la seconda maglia dell'Inghilterra in edizione FUN. Grazie a tutti. La maglia è bella, tra l'altro non sono scheramantici gli inglesi perché il viola in teoria non dovrebbe essere utilizzato, dicono l'Italia che porta a sport. Comunque la maglia è molto bella, vi ricordo non è ancora ufficiale. Qui in alto vedete il costo, questo molto basso soprattutto se considerate che comprende anche le spese di spedizione. Se volete maggiori dettagli vi ricordo che in descrizione del video trovate tutte le informazioni. Andate a vedere perché c'è anche una fantastica sorpresa, un link col quale potrete ottenere un coupon da 5 dollari. Prima di lasciarvi vi ricordo di iscrivervi al canale. A voi non costa nulla, ma per noi vuol dire tantissimo. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.